Buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con l'informazione del quotidiano L'Attacco. Passa il bilancio al Comune di Sansevero confermando il Sindaco Miglio alla guida della città, ma i sei assenti, l'astenuto e il voto favorevole arrivato dal consigliere di opposizione priore, non sono passati inosservati agli occhi di chi oggi parla di maggioranza che sopravvive. Il resoconto è di Cinzia Celeste. Con 11 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto è passato ieri il bilancio preventivo del Comune di Sansevero dopo un consiglio comunale durato ben 11 ore, il primo del 2022. L'approvazione del bilancio conferma la tenuta del Sindaco Miglio alla guida della città, che alla fine dell'assemblea si è giocato la carta della legalità. In un contesto difficile come quello di Capitanata, ha detto il primo cittadino, in cui città come Foggia, Manfredone e Cerignola sono state sciolte per mafia, Sansevero si difende degnamente, un dato politico inoppugnabile che rivendicherò sempre. Ma c'è chi fa notare che Miglio abbia retto grazie ai voti di pezzi dell'opposizione, tra tutti quelli del consigliere Matteo Priore della lista Bocola, candidata sindaco del centrodestra alla precedente tornata elettorale. Non è passato inosservato neppure il fatto che di sabato del Movimento 5 Stelle si sia assenuto e che i consiglieri di Liberi e Forti, gruppo che nei giorni scorsi aveva chiesto il ritiro dei propri assessori in giunta, aprendo di fatto una crisi, abbiano lasciato l'assise senza votare il bilancio. Segnale debole ma apprezzabile il commento di Rosario, capogruppo di Forza Italia all'opposizione. La seduta consigliare di ieri finalmente è stata il banco di prova per verificare la tenuta di questa maggioranza e soprattutto un momento importante per smascherare i protagonisti di intrighi di palazzo, ha aggiunto l'Azzurra. Mi sembra doveroso evidenziare che Miglio si è salvato solo e soltanto grazie ai sei assenti, che ovemai avessero votato contro avrebbero determinato la caduta di questa amministrazione. Dunque non ha più una maggioranza stabile, sopravvive. Naturalmente ad aiutare Miglio è servito persino l'eletto della lista Bocola, il quale, dovendo rispondere a chi gli ha portato i voti, ha secondato i voleri del malefico burattinaio, che in accordo col mago degli intrighi, Santarelli, ha già pronto l'ennesimo salto della quaglia. L'accattonaggio politico a cui stiamo assistendo è veramente una brutta pagina di politica cittadina, specie in un momento di estrema necessità di sviluppo e di impegno per i gravi problemi sociali, economici e occupazionali, ha concluso Caposiena. Manfredonia sta morendo degli aiuti che erano arrivati negli ultimi 40 anni, lo conferma l'economista Nicola di Bari dopo la pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2020, un anno particolare per via del Covid e per le chiusure forzate di molte attività commerciali. Sentiamo Matteo Fidanza. Manfredonia sta morendo degli aiuti che erano arrivati negli ultimi 40 anni. Invece di creare un modello di sviluppo sostenibile, hanno generato effetti collaterali come la criminalità organizzata e la corruzione, per esempio. Questa è l'analisi che fa con l'attacco l'economista Nicola di Bari, presidente della cooperativa sociale Medtraining, leggendo i dati delle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno 2020, un anno particolare, come tutti ricordiamo, per via dell'arrivo del Covid e per le chiusure forzate che riguardano quasi tutte le attività commerciali. Nel 2020, a Manfredonia, il reddito medio pro capite l'ordo è stato pari a 15.289 euro, quasi un terzo quindi in meno rispetto al dato nazionale che è di 21.570 euro. Quasi il 90% del reddito dichiarato poi riviene da lavoro dipendente e da pensione. Inoltre, più del 70% del reddito dei 33.297 sipontini che hanno presentato la propria dichiarazione proviene da impiego pubblico o da pensione. I nuovi poveri sono i professionisti, dice il professor Di Bari. Nel 2020, a Manfredonia, sono stati circa 300 i professionisti che hanno dichiarato il proprio reddito, meno della metà del numero complessivo. È sconcertante, commenta Di Bari, che la città venga retta dal pubblico e dai pensionati. Manfredonia è molto vicino al punto di non ritorno, quello superato da paesi limitrofi come Monte Sant'Angelo. Il punto di non ritorno, per essere più chiari, si misura sulla base dell'età media della popolazione. Manfredonia aveva un'età media di 36 anni, 15 anni fa. Adesso invece l'età media è di 44 anni. Presentato anche a Foggia, tappa all'interno del tour regionale dell'assessorato al welfare il nuovo piano triennale delle politiche sociali. Questa volta i comuni non avranno problemi di finanziamento, ma dovranno essere bravi nella progettazione per investirli. È stato detto durante la conferenza stampa con l'assessora regionale Rosa Barone. Sentiamo Fabrizio Sereno. Sì, oggi partiamo con questo tour che andrà in tutte le province, presentando questo piano triennale che era molto atteso, in quanto veniva dopo un anno di proroga, ma soprattutto veniva dopo un periodo storico molto particolare, dove proprio il sociale è stato centrale. Abbiamo compreso tutti quanto l'aspetto, l'ambito e le dinamiche legate alle disparità, alle disuguaglianze, alle difficoltà siano particolarmente evidenti e debbano essere al centro di ogni agenda politica. Quindi oggi siamo qui a definire, a indicare quelle che sono state le linee guida che in Regione, insieme con tutti i protagonisti del welfare pugliese, abbiamo definito, quindi quelli che sono gli atti di indirizzo che poi verranno calati nelle realtà dai comuni tramite gli ambiti. Quindi più che altro oggi diamo appunto delle linee di indirizzo, dopodiché saranno gli ambiti ogni giorno, quotidianamente, a lavorare in sintonia chiaramente con la Regione per concretizzare queste misure, che per di più saranno rafforzate quelle che erano quelle misure da sempre storiche, quindi riguardanti la disabilità piuttosto che il disagio. Parallelamente verranno però aumentate, modificate, rinnovate misure che sono oggi importanti e che la luce su tutto il punto del momento storico che abbiamo vissuto sono diventate particolarmente evidenti. In più abbiamo permesso, permetteremo ai comuni di fare dei bandi a tre anni e non più a un anno, quindi favorendo la programmatizione, oltre che introducendo tematiche nuove come l'invecchiamento attivo e l'aiuto insomma ai minori. Non vedrà la luce nel capologo Dauno l'accordo di programma chiesto dal 2017 per via Sant'Alfonso dei Liguori da Idealcasa SRL, l'impresa del foggiano Fabrizio Fantini. Sentiamo Lucia Piemontese. Prima il no da parte della commissione straordinaria in carica presso il comune di Foggia e adesso anche la sconfitta davanti al Tarpuglia. Non vedrà la luce l'accordo di programma chiesto sin dal 2017 da Idealcasa SRL, amministrata dal foggiano Fabrizio Fantini e dalla lucerina Vittoria Maria Schiavone, che presentò appunto nel 2017 alla loro amministrazione Landella, un'istanza per creare in via Sant'Alfonso dei Liguori una struttura commerciale, quattro immobili di edilizia residenziale libera, mentre al comune sarebbe dovuto andare un edificio pubblico con le relative aree di pertinenza ad uso pubblico. Questo complesso funzionale di fabbricati e servizi e residenza sarebbe stato realizzato in variante al piano regolatore generale vigente. Nei mesi scorsi la Commissione straordinaria, dopo che la Prefettura aveva nominato un commissario ad acta e dopo la condanna del TAR affinché si chiudesse il procedimento con una risposta all'impresa, la Commissione disse no a questo accordo di programma, affermando che non era in linea con le prioritarie esigenze dell'ente e affermando anche di non vedere un interesse pubblico. Adesso, da ultimo, il TAR Puglia ha rigettato il ricorso di Dialcase SRL e dunque non sono stati annullati gli atti del comune. Addio all'accordo di programma chiesto da Fantini. Intitolato l'auditorium della Biblioteca Lamagna Capitana Foggia, Michele Protano, socialista, l'amministratore provinciale che vanta la più lunga attività a Palazzo Dogana. È stato presidente della provincia dal 1981 al 1990, è eletto per la prima volta nel 1962, ha ricoperto incarichi amministrativi per circa 30 anni. Ce ne parla Silvia Guerrieri. Ho tanti ricordi di mio padre e sono i ricordi da figlio che ho di mio padre. Chiaramente, parlando di mio padre amministratore, posso dire che ha fatto tanto non solo per questa città, per la città di Foggia, ma per tutta la Capitanata. Mio padre è stato per molti anni amministratore provinciale, è stato per molti anni assessore e poi per due legislature, per 10 anni presidente della provincia. Incidento profondamente nel tessuto sociale ed economico di questa provincia. Era il tempo in cui a Foggia si istituì l'università. Mio padre fece molto per istituire l'università a Foggia, lavorò molto per la viabilità della Capitanata e per l'edilizia scolastica. Tanto fece per questa terra e sono molto contento che oggi la biblioteca provinciale, che fu costruita da mio padre quando era assessore questa biblioteca, abbia questo auditorium intitolato a lui. La biblioteca provinciale di Foggia fu costruita da mio padre Michele. Un ritratto lungo 15 metri, alto 3, frutto dell'ispirazione di due artisti locali, Cactus e Maria Artwork, su iniziativa del comitato Rossoneri per sempre. È stato scoperto ieri in via alla porta a Foggia, piccolo anfratto del centro storico abbandonato a se stesso e raffigura Zeman, tecnico dei Rossoneri e sempre più una icona del calcio locale. Il servizio di Daniele Miulli. Un'opera d'arte per il maestro. Zenec Zeman, tecnico del calcio Foggia 1920 e leggenda del mondo pallonaro foggiano, nel pomeriggio di ieri è stato omaggiato con la realizzazione di Murales, sito in vicola porta 1, nel cuore del centro storico cittadino. L'idea, partorita dagli attivisti del comitato Rossoneri per sempre, ha visto la sinergia con l'associazione regime Rossonero Onlus e con la RM Service. Il maxi graffito porta la firma degli artisti Cactus e Maria Artwork. L'iniziativa mira a riqualificare un quartiere storico, finito negli ultimi tempi in mano al degrado. Foggia cresce e lo fa mixando arte e sport, come raccontato all'attacco da Rosario Costantino, in rappresentanza del comitato. Infatti è questo che vogliamo comunque sottolineare, che la cosa più importante è che questo progetto soprattutto è stato riqualificare questo bellissimo Vico, che comunque è alle spalle del centro storico di Foggia. Poi ovviamente l'abbiamo impreziosito con il murales dedicato al maestro Zeman. E visibilmente commosso Mr. Zenec Zeman quando svela i numerosi presenti, il ritratto che lo ricorda giovane nei suoi anni migliori alla guida del Foggia Calcio. Ma cosa si prova ad essere una leggenda in tutto e per tutto? A rispondere è proprio il boemo. Ma io sono contento e felice, come ha detto il ragazzo. Io devo tanto a Foggia e Foggia deve qualcosa a me e me lo sta dimostrando ogni giorno. Al termine della breve cerimonia, nella seconda parte del pomeriggio presso la sede del piccolo teatro di Foggia, l'angelo biondo Beppe Isegnori ha presentato il suo nuovo libro, Fuorigioco. Cala il sipario in un pomeriggio d'applausi. E chiudiamo sempre con le notizie sportive. Esce sconfitta la cestistica Sansevero nel secondo turno della fase ad orologio del campionato dia 2 di Baschetta. Casale Monferrato, il quintetto di coach Luca Becchi, perde 80-66, una gara che è stata a lungo in equilibrio e che i piemontesi hanno risolto a proprio favore solo nel terzo e quarto tempo. Non si spengono ad ogni modo le chance dei playoff per i neri che restano in gioco anche grazie alla sconfitta di Latina e che ora puntano sul match di domenica prossima con il Trapani per chiudere i conti. Molto dipenderà anche dal risultato dell'Eurobasket Roma che resta forse l'unica reale antagonista dei Sanseveresi. È tutto per questa edizione del nostro OTG. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento questa sera alle ore 20. Buon proseguimento di giornata a tutti.